Nell'ambito delle operazioni di profilassi degli animali da latte e da carne predisposte dal servizio veterinario dell'ASL Unica, sono stati sequestrati 50 capi bovini che pascolavano nell'area montana del Cervati. Il sequestro avvenuto nel territorio comunale di Sanse è stato operato dai carabinieri e dalle guardie del Corpo Forestale dello Stato, che in un'operazione congiunta tenevano da tempo sotto controllo le aziende zootecniche della zona. I 50 bovini appartenenti ad un'azienda già diffidata dall'ASL sono risultati affetti da patologie nocive per la salute dell'uomo e saranno abbattuti nelle prossime ore. Una disposizione che avrebbe già dovuto essere attesa dall'azienda in seguito ad una precedente segnalazione dei responsabili del servizio veterinario dell'ASL, ma alla quale i proprietari dei bovini non avevano mai ottemperato. Quella della profilassi degli animali, sottolineano i responsabili del servizio veterinario, è una prassi da seguire sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti. Anche per questo sono state potenziate nell'intera provincia di Salerno le attività di controllo dell'ASL.